Mandami dov'è lei. È una scelta rischiosa. Il karma di Xina che si deve compiere è unito al mio. Puoi vedere quanto Xina ne faccia parte. Sì, siete insieme in molte vite. La puoi aiutare? Viaggeremo tutti e tre insieme. Noi saremo come un padre e una madre per te. Guardie, per favore, mi soppre che per favore fatevi uscire di qui. Guardie, per favore. Don't you turn your eyes. And if you dare turn to look. I'll be waiting. Grazie a tutti. 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 Non è quella la vita che voglio. Io desidero viaggiare, conoscere posti nuovi. No, non puoi capire. Forse col tempo riusciremo a comprenderci. Se vuoi puoi puoi dormire lì. I guai mi seguono ovunque. Lo so. E allora perché vuoi stare con me? Perché le amiche si sostengono l'un l'altra quando ci sono dei problemi. Se lo dici tu?